Buonasera a tutti i web radio ascoltatori se io parlo così il microfono si sente bene ma se io parlo qua non si sente un cazzo invece così si sente devi parlare su davanti, di fronte, qua perché se parli qua si sente prova 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 buonasera a tutti i web radio ascoltatori e io volevo provare semplicemente a vedere se facevo questo, se si sentiva di più o di meno pa 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 questo buonasera a tutti i web radio ciao ciao ciao